Buonasera, Lando Sileoni, segretario della Fabi. Lei rappresenta 100.000 bancari italiani, quelli che stanno davanti allo sportello e quelli che gestiscono i nostri risparmi. Non c'è un sindacato che ha più iscritti in Italia in qualsiasi settore, industria e servizi. Le voglio far vedere un dramma che non stanno vivendo i cittadini, o meglio, i cittadini che vogliono anche fare gli imprenditori e i loro dipendenti. È una cosa incredibile e un po' vi riguarda. Guardiamo. È già stato montato il cappotto, quindi di conseguenza mancherebbe poco alla fine, però è stato bloccato. Quest'altro abbiamo montato il ponteggio, dovevamo cominciare i lavori, ma abbiamo bloccato tutto ad aprile e non siamo andati più avanti, perché logicamente senza liquidità ci siamo resi conto che non potevamo continuare anche solo per pagare il personale oltre i materiali. E questi lavori? Questi lavori sarà un altro problema, perché rimarranno sospesi. I costi sospesi sicuramente contenziosi. Come questo imprenditore sono circa 33.000, secondo le stime della CNA, le imprese a rischio fallimento, con una perdita di 150.000 posti di lavoro nell'edilizia. Io adesso devo incassare 700.000 euro. 700.000 euro di crediti sono nel cassetto fiscale. Gli operai sono in cassa integrazione e praticamente siamo fermi. Ecco, i materiali, come voi vedete, sono tutti qui. Materiali nuovi che dovevano stare in cantiere, ma che sono fermi qui perché abbiamo bloccato tutto quanto. I crediti di cui parla questo imprenditore corrispondono all'importo che lo Stato rimborsa per i lavori eseguiti. Una sorta di moneta virtuale che i committenti, ad esempio i condomini che usufruiscono del super bonus, cedono all'impresa idile senza anticipare i soldi e a sua volta l'impresa cede alla banca per avere in cambio liquidità. Abbiamo creduto tantissimo in questi bonus, tant'è che abbiamo fatto investimenti anche nei materiali, abbiamo cercato nel personale, convinti che ci fosse stato poi il flusso di denaro. Invece da praticamente da novembre barra gennaio si è bloccato tutto. A novembre è arrivata infatti la stretta del governo con il decreto antifrodi per evitare truffe che ha cambiato le regole in corsa. A due anni dalla nascita del super bonus ci sono state ben 14 modifiche normative e circa 200 provvedimenti tra circolari, interpelli e chiarimenti. Davanti a norme incerte e continui stop and go, quasi tutte le banche hanno smesso di liquidare i crediti alle imprese. Pensavamo che comunque era un discorso di Stato, un discorso di banche, con una legge e tutto quanto, non credevamo che si potesse arrivare al blocco. Tutti i crediti che avete mandato da dicembre in poi alle banche non avete avuto nessuna risposta? L'ultimo incasso è stato fatto a dicembre e da gennaio siamo in attesa, sei mesi, per un'azienda come la nostra è morte civile. Non voglio usare certi termini, mi sembra scorretto, però la chiamerei una truffa. Se fosse un privato sarebbe stata una truffa questa. Chi doveva controllare non ha controllato e adesso stanno facendo pagare le conseguenze di questi mancati controlli agli imprenditori per bene. Intanto sono già esauriti i 33 miliardi previsti dal governo per le detrazioni da super bonus e diverse banche hanno fatto sapere di aver finito il proprio plafond a disposizione per la liquidazione dei crediti. Se pensano di andare in vacanza siamo morti quando ritornano. Uno degli operai mi ha detto, Livio io non ce la faccio più, non riesco a reggere ancora molto. Infatti io ho detto, ti capisco, però non so che farti, non so che dire, mi ha stretto il cuore, però che dicevo? Per me quello è il mio dipendente, è una persona mia, poi non è che è la mia famiglia, ma è una persona mia che ha creduto in me. Io gli ho fatto credere che c'era lavoro. Cosa gli racconto oggi? Che l'ho preso in giro? Non gli posso dire che l'ho preso in giro. Perlomeno io non lo voglio dire, perché non è così. Sì, Leoni, questo signore ha preso 100 euro di lavori, 50 glieli pagano, 50 gli danno una specie di bonus fiscale. Va in banca e dice mi ridate questi soldi del bonus fiscale e voi nelle banche non ve le possiamo più dare. Loro delle banche. Beh, lei lavora in banca. Sì, ma vabbè, un conto la responsabilità che sta diato lo sportello e un conto chi gestisce la banca e che ne fa la politica finanziaria della banca. Ma che sta succedendo? È successo che praticamente, glielo dico in due parole, sono arrivate molto più richieste rispetto a quello che le banche potevano permettersi. Questo è il primo punto. I 20 miliardi che sono stati stanziati dal governo Conte, se non sbaglio, a maggio del 2020 non sono sufficienti perché sono arrivati 33 miliardi di richieste. E il terzo, le banche dicono che l'Agenzia delle Entrate ha delle responsabilità perché non ha da subito individuato una procedura per, come dire, per... Sono arrabbiati questi imprenditori che arrivano in banca? Lei c'ha lo sportellista, quello che sta che parla con questi signori. Quanto sono... Sono... Non arrabbiati, sono avvelenati. Il settore in questo momento vive sulle montagne russe e le posso dire con la massima chiarezza che ci sono stati anche degli episodi di violenza, di offese verso chi lavora in banca che non tollereremo più perché da questo momento in poi, come abbiamo fatto nella prima fase del Covid, andiamo alla procura della Repubblica. Chi lavora in banca non ha nessuna responsabilità rispetto alle decisioni che hanno preso le banche. C'è la responsabilità anche del governo perché io mi auguro che entro il 15 luglio dai 20 miliardi che hanno stanziato arrivino altri soldi. Quindi il governo non ha messo i soldi che dovrebbe e quindi le banche non possono far fronte a questi crediti. Diciamo che le banche hanno fatto mali conti, potevano prendere fino a un certo importo, invece hanno accolto molto più domande e quindi gli importi si sono alzati molto. Lo capisce questi imprenditori? Ma loro hanno pienamente ragione. Però c'è anche da dire, c'è l'altra faccia, c'è la faccia nascosta della luna. E cioè? 4 miliardi di truffe, festival delle bugie, delle ipocrisie, delle truffe. Per cui ci rimettono quelli per bene. Ma io le faccio un esempio. Nell'ultimo anno, e ci rimettono loro, nell'ultimo anno per poter usufruire del super bonus sono state aperte 2.000, 2.000 nuove aziende nel campo edilizio, neanche nella Silicon Valley in California. Senta, quando Cottarelli dice che c'è questa infrazione che è una grande patrimoniale, una grande tassa nascosta, lei ne ha evidenza nei conti correnti degli italiani. Ma sì, perché abbiamo circa 2.000 miliardi fermi. 2.000 miliardi? Esatto. C'è un'inflazione che pesa al 6-8%, sono circa 130 miliardi di tasso occulte. Lei dice che se io tengo i soldi sul mio conto, di fatto sto pagando una tassa. Le faccio una metafora, che secondo me è molto calzante, considerando il cambiamento climatico che stiamo in qualche modo appunto vivendo. È come l'erosione delle coste da parte del mare, l'inflazione. Ha capito? Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma di fatto le coste diminuiscono e il mare accorge in banca. Cioè non verranno mai da uno sportellista dicendo oggi perché non si riducono i soldi. Io avevo 10.000 euro in banca. Sì, va bene, ma il potere d'acquisto... E se ne accorge la gente? E se ne accorge anche perché ci sono 7 milioni di persone che devono rinnovare i contratti nazionali. Se noi vogliamo far ripartire l'economia, oltre a far ripartire i grandi cantieri, dobbiamo anche far ripartire in qualche modo il commercio. Gli italiani comprano ancora casa? Gli italiani compravano casa fino a poco tempo fa. L'aumento dei tassi, che in una settimana è passato dal 2 al 3% per il tasso fisso, li sta un po' spaventando. E i giovani hanno difficoltà a comprare casa perché adesso chiaramente le banche vogliono le garanzie che i giovani non possono dare e serviranno le garanzie dei genitori. Lei è venuto qua in una trasmissione, mi ha molto colpito e ne avremmo dovuto parlare dicendo che ci sono moltissimi italiani che hanno dei debiti con delle scompagnie che vengono e gli bussano a casa e gli stalkerizzano, come si dice. Il recupero credito, ma è ancora così? Sì, è un altro di quegli argomenti come il 110% che se ne parla poco, perché ci sono circa 1 milione e 200 mila soggetti in Italia che sono oggetto di pressioni energiche da parte di società di recupero credito che vogliono rientrare dei prestiti che hanno comprato dalle banche. Le banche su indicazione della BCE ha ripulito i bilanci e il problema non è stato per niente risolto e è stato trasferito dalle banche ai territori. E questa roba qui pesa... come facciamo a paragonare un'Italia che ha 2 mila miliardi sui conti correnti e poi un'Italia invece... cioè sono popoli diversi? Sono tre... anche il superbono sono tre situazioni completamente diverse. Chi sta soffrendo di più? Giovani, anziani o classe media? Stanno soffrendo tutti. Qui servirebbe una politica che decida a favore dell'impresa, a favore della povera gente, a favore dei poveri. Ecco, questo è un problema veramente reale. Invece la politica in questo momento è tutta concentrata dal mio punto di osservazione sulla guerra e su altri pochi argomenti. Senta, 2 miliardi e mezzo invece è una bella... si concentrano molto sul Monte dei Paschi di Siena, perché arriveranno altri 2 miliardi e mezzo su una banca pubblica, perché è stata resa pubblica, una banca dove avete dei dipendenti. Possiamo ancora parlare del Monte dei Paschi di Siena? Ma sì che possiamo parlare, perché il problema del Monte dei Paschi di Siena è vero che ci sono stati 10 miliardi di aumento di capitale sociale tutti messi dai cittadini, quindi dallo Stato... 10 miliardi messi da noi? Ma è anche vero che ci sono 21 mila dipendenti, ci sono 4 milioni di clienti. I 4 milioni di clienti se saltano a banca farebbero nascere un terremoto all'interno del settore bancario in Italia. E poi c'è un'altra situazione che nessuno racconta. I 10 miliardi sono serviti pure perché la banca del Monte dei Paschi non andasse in mano straniera, perché lei deve sapere che dal Monte dei Paschi sono passati nel corso degli ultimi 40 anni, i personaggi hanno aperto il conto, hanno avuto rapporto con il Monte dei Paschi tutti, cioè dal più grande imprenditore è quello meno famoso, dal politico all'impresa più importante e quindi insomma è la banca dei segreti. È la banca dei segreti e quindi non se la possono comprare gli stranieri. Io non credo che se vada a mano, se operazioni sensibili, informazioni sensibili vadano in mano ad una nazione diversa dalla nostra, non credo che sia molto utile al nostro Paese. Lei mi sta dicendo, mi scusi perché questo è importante, lei mi sta dicendo che abbiamo messo 10 miliardi nel Monte dei Paschi anche perché è una banca che è piena di segreti. Questa cosa, io l'ho detta pubblicamente diverse volte, è una banca dove i correntisti ci sono stati personaggi importanti. Ma questo non toglie che tante banche avevano correntisti importanti e sono finiti? No, ma quelli che ha avuto il Monte dei Paschi diciamo non sono stati pari degli altri gruppi bancari, magari negli ultimi anni questo fenomeno non è avvenuto, ma negli anni più importanti della storia del Monte dei Paschi è avvenuto. Le banche continuano a fare credito alle imprese, a parte l'edilizia che abbiamo visto che è in questa condizione. Ma ne faranno sempre meno perché la BCE vuole... Non presteranno più soldi? No, lo presteranno ma sempre di meno e le presteranno sempre ai soliti noti perché la Banca Centrale Europea non vuole che i bilanci delle banche si appesantiscono come è stato fatto. E' così critico con la Banca Centrale Europea? Mi sembra che ci sia una vena di critica da parte del Sole. No, la Banca Centrale Europea conta più di qualunque altro Stato nel nord Europa e quindi ha una potenza di fuoco, un peso contrattuale e una incisività che è temuta un po' da tutti. Cioè il banchiere italiano per quanto importante rispetto alla Banca Centrale Europea conta più di un Presidente del Consiglio, più di un Presidente della Repubblica, più di un Ministro? Il banchiere italiano prima dell'arrivo del Presidente Grati contava molto di più. Ora con Draghi, Presidente del Consiglio, non hanno più questa, quel potere, quella visibilità e quel potere di muoversi e di condizionamento che avevano prima. Perché Draghi è uno di loro? No, perché Draghi non ha preso le distanze e non vuole essere minimamente accostato in questo periodo a loro. Gene! Ascolta, volevo chiedere al dottor Sileoni, lei è stato eletto segretario generale della Federazione Autonoma Bancari con il 99% dei consensi. L'ha poi trovato quel dissidente o lo sta ancora cercando? Sì, era lei quando si è messo la maglietta del Parma numero 10 che è sceso in campo al Tardini. Perché lei era Presidente e Direttore Generale della Viterbese Calcio. No, mio padre, mio padre era bravo. Perché non avete mai pensato a me come giocatore vostro? Lei ha ragione. Il primo sciopero, Nicola, il primo sciopero professionistico fu fatto contro mio padre nella Viterbese Calcio nel 1976. e la Viterbese andò a Parma, a Tardini, vinse il campionato di quell'anno con la squadra Primavera. Hanno fatto un mazzo così, Gene, altro che... No, ma che, ma che, ma lui, stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando della stessa cosa. A proposito di Superbonus, secondo lei Porro non ha bisogno di una ristrutturazione? Non lo vede? No, io lo vedo sempre molto attuale e moderno. Molto bene, allora faccio, dico l'ultima cosa, è uscito un film che racconta la vita del dottor Sileoni, te lo faccio vedere, Una notte da Sileoni. Va bene, dai, su, su. Questo qui è fantastico. Allora, Gene, c'è una sorpresa per te che non è tanto una sorpresa, ma me lo sono dovuto comprare, cioè tu hai scritto Tennispedia, cioè tu lavori talmente poco da noi che scrivi un libro sul tennis ed è vero, non è una presa per i fondi. Fammi dire una cosa, questo libro è stato scritto perché tu possi, come sei un giocatore di tennis scarsissimo, e io ti ho visto, e hai sempre evitato la sfida con me, tu ti leggi quel libro e dopo che te lo sei letto potrai competere con me su un campo da tennis. Giocava bene, giocava bene, poteva fare il calciatore vero, il calciatore professionista. E questo è il disastro, che non ha fatto il calciatore vero e ci tocca qua tutti i Era una mezzata sinistra, un regista fantastico. Ma chi ne sa? Sileoni, ti amo! Vabbè, basta, è imbarazzante quello che state facendo, tra un po' parleremo di giustizia che è un altro grande tema. Sileoni, grazie per essere stato con noi. Il segretario della Fabi, tu vatti a leggere bene Tennispedia perché non so se l'hai scritto tu, hai scritto talmente bene che non è roba tua. Ci vediamo dopo. Grazie.